Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo video dell'impero delle tenebre quest'oggi faremo l'unboxing di un altro model kit della linea Master Grade Figurize questa volta l'unico per così dire dedicato a One Piece infatti questo è un pezzo abbastanza raro in quanto è l'unico model kit che io sappia dedicato ai personaggi di One Piece infatti poi Bandai si è specializzata nel creare le navi sia in versione per così dire piccola che grande che tra l'altro secondo me sono anche molto belle mentre nella linea Figurize è stata dedicata principalmente a Dragon Ball e adesso ai Kamen Rider e agli Ultraman infatti la ciurma di cappello di paglia non è mai stata poi realizzata ed è disponibile soltanto questo model kit di Luffy in scala 1.8 che come adesso andremo a vedere è come già era successo per Goku un bellissimo acquisto per tutti gli amanti appunto del modellismo se amate One Piece sicuramente avrete qualche nave ma questo modellino ha diverse caratteristiche molto particolari i capelli sono una plastica un po' più morbida questa invece in ABS è il giunto per tenerlo diciamo in sospensione perché questo kit è dotato anche di un appunto basetta per le varie action pose questo invece è il sticker con appunto le decla adesive ci sono diversi tipi di occhi le cicatrici, le sopracciglia, il per così dire nastro del cappello e poi alcuni appunto teschi, le sbucciature, le ferite così da poter personalizzare appunto una versione di Luffy che ha combattuto ed è appunto una cosa molto carina un'altra cosa particolare è gli accessori che questo Figurize ha nella sua scatola infatti oltre a un molding discreto per i calzoni e per il cappello è presente anche un boccale di birra e il cosciotto di carne andiamo subito a vedere l'altra particolarità ovvero a differenza di Goku e dei vari anche Kamen Rider che avevano fatto in questa scala oltre alle parti del corpo che in questo caso sono tra l'altro molto più umanoidi per così dire dettagliate hanno una discreta mobilità del torso perché c'è appunto il bacino, c'è l'addome e il torace separati le braccia hanno degli snodi carini ci sono anche i piedi che naturalmente avendo i sandali si vedono le dita dei piedi ma soprattutto ha un set di braccia aggiuntive anche questa in plastica un pochettino più morbida che sono già pressofuse ovvero è uno stampo unico come anche per le mani in questa linea appunto usano una gomma per fare direttamente gli stampi in questo modo poi oltre alle mani aperte e chiuse si può sostituire direttamente il braccio per avere il Gun Gun Punch cosa analoga come andiamo a vedere adesso anche per i piedi infatti ci sono anche gli sprù per le gambe in questo caso sono invece due parti da attaccare questo più è altro per il fatto credo che era anche più difficile tenerle in posa le braccia in sé queste vanno attaccate al gomito e quindi fanno l'allungamento dell'avambraccio mentre queste si sostituiscono all'attacco dei calzoni così da avere anche una rigidità maggiore e con i vari punti di aggancio non si rischia che si piega così appunto sono anche belle lunghe e si va a creare il proprio ruffi personalizzato con braccia e gambe di diverse dimensioni un'altra cosa carina è anche vabbè il la mano che tiene il boccale di Birol cosciotto e tre facce a differenza anche questo di quelle di Dragon Ball sono ben tre le facce quella diciamo normale quella sorridente e quella invece che urla come anche per gli altri kit come anche per i kit di Star Wars e alcune versioni particolari ci sono sia le decle adesive che quelle ad acqua in questo caso direi che la cosa più carina sarebbe usare quelle per i cerotti e i vari per così dire tagli e abrasioni per dargli un attimo più di realismo invece per il cappello per la birra questo coso giallo in realtà andrebbe messo nel boccale secondo me è meglio utilizzare gli adesivi andiamo adesso a vedere le ultime parti tra l'altro un altro vero componente è appunto il cappello perché è un altro pezzo importante perché può essere messo sia in testa che grazie a questo laccetto lasciato diciamo penzolare questi invece sono i denti e gli occhi e la parte del coscetto che diciamo fa vedere l'osso da proprio pezzo di carne da manga le polycap sono abbastanza standard sono simili a quelle dei master grade dei gundam ma un'altra particolarità come anche gli altri personaggi della serie sono le suole gommose in questo caso dei sandali quindi queste sono diciamo anche morbide ma hanno una discreta aderenza per tenere in piedi il modello data però la sua particolarità consiglio di montarlo direttamente con la basetta un'altra particolarità ancora proprio perché questo modello a differenza degli altri è molto più accessoriato la giacca è composta da due parti ed è virtualmente rimovibile infatti vediamola anche qua in alcune pose è possibile metterlo direttamente a torso nudo così come dicevo si può creare un personaggio davvero personalizzato con tantissime opzioni perché ha due braccia e appunto due gambe allungabili ha la possibilità di avere ben tre facce ci sono anche i la mano per il cosciotto e per il boccale di birra può essere messa a torso nudo con il cappello su oppure allacciato insomma è un bel model kit con davvero davvero tante possibilità un'altra cosa particolare sono queste le varie giunture soprattutto quella del bacino che è molto particolare diversa da quella appunto di Goku o dei Kamen Rider e questi perni che poi andranno messi dentro praticamente le braccia per dargli un maggiore spessore infatti non sono cave ma da quello che ho già visto come modello è bello pieno e bello pesante infatti di spru qua si stanno accumulando e per ultimo abbiamo la basetta appunto di questa serie di master grade in cui però a differenza di Goku non andremo a usare queste parti per agganciarlo ma quelle messe a parte basetta che ha ricordiamo i bulloni e le viti per fissare i punti così appunto ha anche una aderenza molto migliore e non decade con il tempo serrandola bene diventa praticamente una posa eterna del personaggio qua abbiamo il manuale completamente in giapponese perché ridendo e scherzando anche questo è un model kit del 2010 vuol dire ormai dieci anni fa e qua appunto fa vedere un po' come vanno tagliati i pezzi la mancolista degli sprue che poi in realtà non sono tantissimi però sono di notevoli dimensioni essendo appunto in scala 1-8 si inizia costruendo il torace torace come dicevo che ha una discreta mobilità e come tutti i vari master grade ogni parte è diciamo corredata degli vari sprue che vanno utilizzati così da poter prendere solo i pezzi che ci servono rende più facile appunto navigare tra i vari sprue che vengono utilizzati per quella parte e qua come vediamo appunto il braccio ha un inner frame che lo tiene diciamo bello bello denso per così dire e qua un po' di pubblicità per le varie pose che sono poco belle sono tante l'unica cosa che non mi piace molto anche se in realtà è funzionale sono gli snodi a vista perché a livello tecnico permettono qua come fa vedere una giunzione del braccio molto snodata permette appunto alle gambe anche di essere messe incrociate c'è un per così dire movimento del braccio anche particolare l'unica cosa è che sono molto più a vista di quelle dei figure eyes a cui sono abituato adesso perché i figure eyes standard hanno comunque un livello di dettaglio anche del nascondere le giunture molto superiore a questo che però sicuramente ha una maggiore resistenza mobilità anche basta dire diciamo le parti del polso costruite appunto con due pezzi con il perno che permettono un'articolazione maggiore di quella che ha il braccio diciamo con il perno sulla mano comunque questo in realtà è il pezzo del bacino e la cosa diversa erano appunto i perni per i jeans per così dire invece le parti che avevo visto prima erano per il torace qua andiamo a costruire poi i sandali e le gambe normali diciamo che sono 15 pagine di manuale questa si allunga e poi qua appunto ti fa vedere come mettergli anche la giacca perché sino adesso abbiamo costruito il modello a torso nudo e poi andiamo a mettergli la giacca e il cappello ultima cosa la basetta che viene che viene che viene mostrato come agganciarli sul sedere il perno diciamo per tenerlo in posizione così da avere pose molto più plastiche per così dire ma sicuramente con un baricentro inesistente però averci appunto il calcio con gom avere diverse parti opzionali è molto molto bello a mio avviso guarda ti fa vedere anche come costruire le altre facce gli accessori la testa diciamo con i capelli lisci serve per far aderire meglio il cappello tra l'altro ecco qua le braccia in realtà ecco scusate ho sbagliato non vanno messe al gomito ma hanno direttamente degli delle spalle aggiuntive diverse fatte apposta per questo pezzo invece le gambe vanno messe al jeans per così dire hanno il perno fatto apposta anche per metterle verso dritto e sul retro viene mostrato un po' i vari marchi che si possono mettere e dove vanno anche messe o le possibilità di customizzare il personaggio con i tagli e con le sbucciature insomma questo è un model kit sicuramente per appassionati e infatti io lo sono che amano one piece e vogliono anche qualcosina di un pochettino più tecnico da costruire perché come dicevo le barche sono carine pochi pezzi una bella resa anche per l'effetto acqua che hanno intorno alla basetta però questo è tutt'altro model kit questo è davvero un bel pezzo si vede che è un po' più datato dei figurais moderni che cercano di nascondere al meglio le giunzioni però paragonandolo comunque a un action figure anche di alto livello è decisamente un bel model kit soprattutto la resa finale come accade anche appunto per i figurais standard di oggi è davvero notevole in questo caso anche le dimensioni sono notevoli perché poi il personaggio in sé viene bello grosso si tratta di una 25 quasi centimetri qua viene indicato sì 25 diciamo un personaggio bello grosso più grosso di un master grade di gundam e con uno dei personaggi che ormai è entrato nella leggenda infatti è stato un peccato che non abbiano continuato a fare la ciurma perché non mi sarebbe dispiaciuto averli tutti quanti almeno quelli iniziali appunto con Zoro Sanji Asop e Nami però la linea si è fermata qui dopo dieci anni l'interesse di Bandai probabilmente non è poi riaffiorato e si è rimasti solo con questo model kit che virtualmente è fuori produzione non viene ristampato così spesso come succede con quello di Goku e quindi è più difficile da trovare in giro sono riuscito a trovarlo a un buon prezzo quindi lo costruirò molto volentieri mi ci divertirò anche parecchio proprio per il fatto che si tratta di un model kit davvero degno di nota si tratta di un bel pezzo con proprio dei bei pezzi molto più dinamico di quello che si potrebbe aspettare anche dalle foto degno anche appunto di un action figure o di una di quelle statue di alto livello ma con un prezzo appunto molto più contenuto almeno per le mie tasche quindi sono davvero contento di avere questo model kit e tra poco spero appunto come dico sempre nei miei video a breve di riuscire a fare anche un post sul blog quindi seguite imperodeletenebre punto blogspot punto com per magari vedere poi anche l'unboxing e la recensione di questi piccoli gioiellini infatti questo è un bel gioiellino e poi ne parleremo più avanti anche di altri progetti per adesso quindi è tutto vi saluto e ci vediamo al prossimo video